Presentata sabato presso la Sala Pace del Sacro Convento di Assisi, la Costituzione Etica della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione. Una federazione che richiude ben 19 diverse professioni sanitarie. L'evento è stato aperto con i saluti del Sindaco di Assisi Stefania Prietti, del Direttore Regionale Salute e Welfare Massimo Breganti, del Direttore di Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia Vincenzo Talesa e del Presidente dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie e Tecniche di Perugia Eterni. Assisi abbiamo voluto fortemente presentare e raccontare la nostra Costituzione Etica, un documento valoriale, etico, ideontologico fondamentale che pone una pietra miliare su quelli che sono i valori dell'agire quotidiano dei nostri professionisti. Abbiamo voluto fortemente questa Sala della Pace, Assisi, il Sacro Convento, per trasmettere l'importanza che ha e che riveste per noi, per i nostri iscritti a tutela della cittadinanza, l'agire seguendo quelli che sono principi etici, deontologici fondamentali. E chi meglio, dove meglio, se non proprio da Assisi, in un momento così importante per la nostra sanità, fatto da enormi difficoltà dalle quali veniamo, come la pandemia, alle enormi sfide che ci attendono, come il PNRR e il Piano Sanitario Regionale. Noi, con le nostre 19 professioni, afferenti a tre aree differenti, con i nostri 4.000 professionisti, siamo pronti, siamo a disposizione delle istituzioni e grazie alla professionalità dei nostri iscritti vogliamo dare e daremo il nostro contributo alla nostra sanità.